Amiche e cari amici, benvenuti da tutti noi di Casa d'Aste Sant'Agostino a questa 17esima puntata di Oltre l'Asta. Possiamo dare un consiglio, bello subito, su qualunque canale voi siate sintonizzati, qualunque trasmissione stiate guardando, cambiate e andate sul 217 di People TV Digitale Terrestre e sull'846 di People TV su Sky, perché oggi siamo qui a presentare una grandissima esposizione di Lotti per questa meravigliosa grande asta, anzi doppia asta, 113 e 114esima asta di Casa d'Aste Sant'Agostino. Allora, benvenuti e passo già subito la parola a Patrick perché siamo qui in mezzo, ci potete vedere, a magnifici orologi. Dico solo che oggi sarà una trasmissione un po' diversa dal solito perché facciamo gli itineranti, Patrick, oggi, quindi un po' di orologi, un po' di pittura, andiamo a vedere in particolare dei bellissimi quadri, delle bellissime opere dell'Ottocento italiano, poi ritorniamo con gli orologi, poi ritorniamo sull'Ottocento, ancora orologi e poi andiamo a fare una rapida panoramica su una quarantina di opere, ma proprio rapidamente le andiamo a toccare insieme così in un modo molto veloce, di opere che invece saranno presentate nella prossima puntata di Oltre l'Asta, la diciottesima, quindi tutte le sere del lunedì dalle 19 alle 21. Patrick, cosa possiamo dire? Eh sì, grazie Michele, buonasera a tutti. Ti ringrazio perché come vedete, lo vedrete anche fra poco, finalmente siamo pronti con l'esposizione. Dopo le settimane di presentazione delle varie opere in studio e quindi a cavalletto e così via, finalmente qua in Corso Tassoni 56 è pronta l'esposizione dell'Asta del 13 e 14 giugno. Quindi ufficialmente comincia da domenica 5, da domenica prossima, però noi siamo già pronti, abbiamo lavorato con grande anticipo e quindi chi vuole venirci a trovare già da domani mattina qua con orario spezzato per adesso, quindi l'orario di Galleria Classico 9.30, 12.30, 15.30, 19.30, ci viene a trovare, vede già tutti i 1200 lotti esposti, quindi dipinti, 800, 900, quelli che hai presentato tu durante questa settimana, gli orologi, una parte di cui avevo già presentato io la scorsa, quelli che vedrete stasera e poi tutto quello che è già qua proprio esposto in sala perché sono 1200 lotti. Poi tu vedi, ecco, ho già il catalogo in mano perché è già disponibile, già da oggi, è arrivato l'altra settimana, il catalogo dei dipinti perché come sapete le aste saranno due, due giorni d'asta, il 13 dipinti 800, 900 e contemporanei ed è l'asta 113 e questo è il catalogo, il 14, il martedì, il giorno seguente, il 14 giugno, l'asta del design, degli arredi e degli orologi e dei gioielli, quindi abbiamo diviso questa volta il catalogo in due perché è un'asta molto importante, quindi un solo catalogo non avrebbe dato il risalto necessario a tutto quello che c'è esposto. Perché sono 1200 lotti, quindi veramente una bellissima doppia asta ed è anche il momento giusto per veramente partecipare a quest'asta, perché? Perché praticamente potete già registrarvi se non siete clienti, se telefonate in questo momento e non siete ancora clienti Sant'Agostino avrete in omaggio il catalogo, ripeto il primo perché il secondo è ancora in stampa e arriverà dopo domani, però il catalogo dei dipinti è già qui pronto, è già tutto qua ben esposto e indicato, quindi telefonate e noi vi diamo il catalogo in omaggio se siete clienti la prima volta, oppure venite qua domani in galleria e lo ritirate. Quindi il catalogo, guarda, la combinazione c'è proprio sulla quarta di copertina il quadro che abbiamo qua dietro, l'Adami, il Valerio Adami. E io mi sposto per far vedere l'Adami che è un altro pezzo di importanza veramente, ma abbiamo avuto nelle settimane scorse e chi ci ha seguito ha potuto vedere veramente delle grandissime firme, veramente delle bellissime opere e è anche il momento di cominciare a investire un pochettino in queste opere perché intanto tutti noi amanti dell'arte non abbiamo, diciamo, questo discorso legato strettamente alla temporalità perché l'arte non ha tempo, non ha veramente neanche spazio, perché va oltre queste barriere. Però è ovvio che è anche il momento economicamente giusto per approcciarsi, per chi è intenditore e anche per chi invece comincia a capire che adesso è il momento di investire nell'arte, storicamente è un buon periodo. Penso che negli ultimi vent'anni sia questo il momento più favorevole per investire in opere d'arte. È un momento particolare, un momento che lo diciamo da anni, comunque segue la famosa crisi che è partita dal 2008, però questo è un momento in cui veramente si acquistano delle cose importanti a dei prezzi molto, molto interessanti. E un esempio pratico è il catalogo nostro, perché abbiamo delle basi d'asta che sono veramente interessanti. Venite qua, scopritelo con i vostri occhi, perché un conto è vedere l'opera in televisione, ma bisogna innamorarsi dell'opera d'arte, quindi venire qua in galleria e rimanere davanti a un quadro, rimanerne abbagliati e desiderarlo, perché poi il contatto, il primo contatto con un'opera d'arte è veramente il colpo di fulmine e quindi solo qua si può avere. Coupe de Foudre, guarda, tu sei dentro questa realtà come me e quante volte ci innamoriamo anche noi di opere, solo che la casa ovviamente è quella che è. Allora, questo che hai detto è giustissimo, è veramente il momento di approcciarsi, di acquistare queste opere, ma anche per un altro motivo, guardate che c'è nessuna casa d'aste che veramente ha dei prezzi di base d'asta così accessibili come quelli di casa d'asta e Sant'Agostino, perché se voi guardate e insieme andremo a vederlo dopo, abbiamo le basi d'asta che sono la metà o addirittura neanche la metà della valutazione reale dell'opera, quindi questo dà veramente la misura di quanto stiamo facilitando gli amanti dell'arte a entrare in possesso, a entrare in basa d'aste, a giocare o a mettersi in gioco per, se siete rimasti innamorati di una di queste opere, per poterla acquistare e questo è importante, oltretutto diciamolo sempre, chi ci conosce da 42 anni lo sa, noi di casa d'aste Sant'Agostino rispondiamo a tempo indeterminato dell'assoluta autenticità delle opere che voi potete vedere e acquistare qui e questa è l'altra grande differenza, io tendo a sottolinearlo, con le altre case d'asta, senza nulla togliere agli altri, però ripeto, una totalità di garanzia dell'autenticità dell'opera e un prezzo di base d'asta che è veramente di favore, veramente di facile accesso, che è la metà o addirittura a volte meno della metà della stima e questa è tutta la serietà dei 42 anni, dei 42 anni di lavoro di casa d'aste Sant'Agostino che viene messa sul piatto per voi, cari amiche, cari amici, cari amanti dell'arte e intenditori. Bene Michele, direi che come introduzione abbiamo detto tutte le cose più importanti, le cose più rapide, noi aspettiamo le telefonate come d'altronde continuano ad arrivare perché tutte le altre serate, le puntate di Oltre l'asta, come lo ripetiamo sempre da un'idea di Claudio Carioggia, questo programma di presentare in anteprima le opere delle settimane precedenti l'asta durante l'anno e poi con l'avvicinarsi della data d'asta ovviamente presentare le opere che sono già sul catalogo e che vengono presentate poi durante le sessioni d'asta. Per cui telefonate, prenotate il catalogo, lo avrete in omaggio come l'abbiamo detto già più volte, se siete nuovi clienti, quindi telefonatevi se vi abbiamo visto, ci segnalate quale canale, perché noi andiamo in onda su più canali, per cui ci indicate su quale canale ci avete visto e noi saremo ben volentieri felici di inviarvi il catalogo sia dei dipinti e successivamente quello degli orologi dei gioielli e degli arredi e del design che sarà pronto tra qualche giorno. Ma siamo proprio bravi allora, siamo buoni, siamo buoni. Allora no, è un discorso che veramente riguarda un rapporto consolidato con tanti clienti ed è riguarda proprio il nostro modo di operare, che è quello che tutto sommato ci distingue. Allora Claudio, io ti lascio, chiedo alla telecamera di seguirmi e andiamo a iniziare un momento di visione, di visibilità di bellissime opere dell'Ottocento Italiano. Benissimo. Noi ci vediamo dopo. A frappè. Perché fra un po' toccherà a te esporre queste meraviglie. Di cui ne vediamo già una volta. Di cui ne vediamo una spiegata. Ma ne parleremo dopo. Ne parliamo dopo. Grazie. 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 Magnifica dove abbiamo tante parecchi veramente ricolme di arte dell'Ottocento. Abbiamo delle pitture splendide, magnifiche. Qui non ne vediamo, cari amiche e cari amici, che è una piccola parte ovviamente. Però andiamo a fare una breve passeggiata in mezzo a queste bellissime opere e cominciamo subito. Guardate, intanto abbiamo tre delleani. Partiamo subito con i delleani e poi con un Pasini. Se vi ricordate, il Pasini l'avevamo già presentato poche puntate fa in una delle trasmissioni dedicate appunto all'Ottocento non era ancora entrato in asta. Quindi adesso che siamo a ridosso di questa splendida asta di lunedì 13 e la successiva di martedì 14 giugno, cento e tredicesima e cento e quattordicesima asta, giustamente lo mettiamo qua in risalto perché è un'opera veramente di grande pregio. E allora partiamo da delleani. Intanto abbiamo qui un grande maestro che ha dato una svolta alla pittura, alla scuola piemontese. Io mentre parlo, non so, la telecamera vuole inquadrare più strettamente le opere, i quadri, così almeno abbiamo questi tre da mettere in evidenza. Come vedete c'è una contadina che sta camminando di spalle, poi abbiamo un bellissimo gruppo di baite a mezza montagna su un costone e poi abbiamo questa bellissima visione di questa pastorella nei prati. Beh, intanto qui abbiamo una firma che ovviamente per tutti coloro che conoscono la pittura dell'Ottocento è di quelle che fa tre mali polsi perché è il grande delleani appunto la scuola di Rivara con Vittorio Avondo e poi lui che prende questa sua strada e dà una così precisa caratteristica alle sue opere da diventare un capofila e un maestro della pittura piemontese segnando proprio un periodo e un modo di fare arte che ha condizionato mica solo la pittura piemontese ma la pittura di tanti artisti lungo tutto lo stivale dell'Italia. Io mi soffermerei proprio andando a leggere proprio la scheda perché a questo punto devo darvi anche un attimino le schede e vediamo intanto subito, partiamo dal basso, da questo piccolo borgo alpino che lo vediamo qua, olio su tavoletta di centimetri 45 x 30,5 datato in basso a destra vedete 59 1896 e qui intanto viene fuori questo colpo d'occhio di un vero maestro che fa veramente cantare, scusate se uso la parola cantare i colori, a parte la prospettiva bellissima di questa stradina che ci guida in questo borgo dove vedete questa piccola figura umana messa lì all'ingresso proprio del paese e poi qua si intravede un'altra figura quindi questo borgo quasi quasi disabitato perché ovviamente è una giornata di sole e probabilmente tutti gli uomini sono al pascolo, sono nei prati al lavoro e quindi ovviamente ci sono poche figure femminili. Però guardate che bella questa salita attraverso questi prati di un verde veramente meraviglioso, un verde che sembra di vedere il miglior verde dei prati freschi di altura che ci porta ovviamente nella parte alta dove c'è il campanile e poi questo grande costone in diagonale che taglia tutta l'opera poi rivelando sempre questi bellissimi cieli, insomma i cieli di un grande maestro, i cieli alla delle Ani. Molto molto bello, quest'opera io vi do subito la tabella Borgo Alpino, è un'opera datata in basso destra, c'è il parere verbale favorevole della Galleria Fogliato di Torino e adesso iniziamo a darvi appunto le basi d'asta perché veramente voi potrete sentire rispetto delle stime che guardate sono già stime per difetto, non sono stime per eccesso, sono stime che si giocano veramente su cifre sempre contenute. Qui abbiamo una stima di 12-16 mila euro e abbiamo sentite una riserva che è la metà, partiamo da 8 mila euro di base d'asta per questa opera qui di un grande maestro, quindi stiamo parlando delle Ani con questo Borgo Alpino del 1896. Sopra andiamo a vedere questa magnifica figura di contadina, si intitola Giorno di festa e qui c'è un po' uno spaccato di vita di fino ottocento, guardate io mi sposto perché ho la luce di fronte però non voglio coprire ovviamente questa bellissima opera. Questa qui è stata esposta alla mostra presso il Museo Borgogna di Vercelli dedicata ai capolavori della pittura piemontese dell'ottocento e poi è pubblicato ovviamente anche nell'opera di Delle Ani. Delle Ani, la vita, l'opera e il suo tempo a cura di Dragone, volume riprodotto a pagina 164, quindi è importante. Questa contadina, guardate, raffigurata di spalle, guardate con quale leggiadria. Il Delle Ani ha intanto tratteggiato il velo, questo foulard che ricopre il capo di questa donna. Stiamo parlando di giorno di festa perché questa donna che probabilmente è anche lei una contadina sta andando, camminando lungo questo muro, rasente questo muro, però vestita in un modo decisamente più curato di quello che è evidentemente durante i giorni di lavoro e quindi è importante questo, guardate questo grembiule, guardate il collettino impreziosito, è un colletto che si intuisce che è stato lavorato, che è stato probabilmente lavorato all'uncinetto o che comunque ha dei pizzi quindi che l'ha arricchito. Guardate che bella questa gonna che scende così morbida, guardate queste pieghe e poi la sacca, la sacca appesa la cintola, questa borsa appesa la cintola e questo passo leggero ma anche solenne, è molto importante questo da capire. E poi ripeto questa cuffia fatta di volant leggere che personalmente mi affascina molto perché ha questa trasparenza che fa intuire la pettinatura e nel contempo fa intravedere il cielo oltre. Una bellissima opera questa, colori caldi, guardate il calore di questi ocra caldi che sono la sabbia, la terra di questa stradina, guardate anche il calore che emana dall'ombra del muro e poi questi vestiti, questo vestito completamente marroncino, beige, rossastro, tutto ha un grande calore, il calore di un giorno di festa, il calore di un momento sereno di riposo dal duro lavoro nei campi. E poi come già abbiamo visto questo cielo trattato splendidamente per questo borgo di montagna, anche qui il grande delle Ani, guardate che cielo meraviglioso che ha messo qui in questa parte superiore, che meraviglie di cieli che abbiamo visto con il delle Ani e mi fanno venire in mente un paio di altre opere che abbiamo presentato nelle puntate scorse dove veramente quei cieli, quei contrasti, quelle ombre dove lui poi è un mago nelle ombre eccezionali, veramente costituivano una prova d'autore, un'abilità di utilizzo della cromia, di utilizzo dei colori che veramente ha pochi uguali e stiamo parlando ovviamente di un maestro. Allora per quest'opera giorno di festa 45 per 31 olio su tavoletta, allora abbiamo anche qui la firma in basso a destra, poi timbro dell'autentica di Bistolfi a Tergo, qui abbiamo una base d'asta cari amiche e cari amici, sentite veramente che accessibilità, 12 mila euro, 12 mila euro a fronte di una stima che varia tutti ai 25 mila per un'opera di un grande maestro della pittura piemontese ma non solo, un maestro che ha indicato una strada da seguire a tanti pittori piemontesi, italiani e oltralpe. Guardate che è importantissimo perché questa cifra qui è veramente una cifra accessibilissima per un'opera eccezionale. Ma io tra tutte queste che adesso andiamo a vedere non so, sono innamorato di tutte perché non saprei veramente quale scegliere o meglio. Sì, i miei gusti ovviamente li ho, una di queste mi colpisce più di altre, però certo sono tutte veramente immancabili per gli amanti dell'arte, per i collezionisti, per chi vuole fare un investimento oculato su un'opera d'arte vera, vera, di un periodo importante, di un artista fondamentale. Beh, signore e signori, cari amiche, amici, amanti dell'arte, è il momento di collegarvi col telefono con i numeri in sovrimpressione, di digitare www.santacostinoaste.it sul vostro computer o sul vostro telefono perché è il momento in cui voi dovete fare sentire la vostra voce perché queste opere chiedono veramente l'attenzione che meritano. Allora, passiamo un altro delle anni, chiederei di inquadrare questo in basso, Pastorella nei prati, 31x45 olio su tavola, anche qui addirittura siamo in una data ancora antecedente perché guardate qui, spero che la telecamera lo faccia vedere, 18 agosto 1891. Anche qui al retro firma e timbro di Bistolfi e parere verbale favorevole della Galleria Fogliato di Torino. Questa Pastorella nei prati che lascia, guardate che bella, lascia questa grande vallata verdeggiante, e guardate questo scorcio di prato che si apre a questa grande prospettiva di questa vallata assolutamente non più torreggiante come era nel Borgo Alpino di prima, ma assolutamente ariosa, aperta. Di qua vediamo Boscaglia, anche di qui la Boscaglia che poi fa da primo piano al secondo piano dove si aprono le montagne però molto degradanti, molto morbide, non eccessivamente alte e poi ancora una volta i cieli di Delleani che spettacolarmente si aprono e la fanno da padrone e danno la luce a tutta l'opera. Guardate queste nuvole grigie che al fondo invece fanno da contrapunto a questa gigantesca massa che si sta gonfiando di nuvole bianche, meraviglioso. Guardate la luce che questa massa bianca sta trasmettendo a tutta l'opera, meravigliosa. Abbiamo visto di Delleani queste tre opere, olio su tavola, stiamo parlando di misure più o meno equivalenti, perché stiamo parlando di 50x35, qui siamo a 31x45, quindi stiamo parlando di opere deliziose, di medio formato di questo grandissimo maestro. Io non spendo parole oggi molto sugli autori, sugli artisti, perché guardate vi farei un torto, perché sono talmente nomi importanti e voi siete talmente intenditori di arte e non è, scusatemi, non è un modo di piageria il mio, perché sappiamo i nostri clienti come se ne intendono di arte, questo oramai lo sappiamo da 42 anni. E quindi in questo momento, anche se io devo dire, nelle trasmissioni passate, spendo sempre qualche parola sugli autori, perché ovviamente, va bene, l'opera è frutto del loro lavoro e poi è frutto della loro vita. Quindi mi interessa sempre, personalmente, il momento particolare della vita di quell'autore da collegare all'opera. Oggi però abbiamo una tale carrellata di robe che non possiamo soffermarci, abbiamo una tale carrellata di capolavori, di opere d'arte bellissime, meravigliose, eccezionali, splendide, che non possiamo soffermarci più di tanto. Allora, io vi do ancora la scheda, ovviamente, di quest'opera. Stiamo parlando di una stima che varia dai 10.000 ai 14.000 euro a fronte di una base d'asta di 8.000 euro. E con questa bella notizia, perché sono tre basi d'asta assolutamente accessibili per queste opere, io abbandono i Tre delle Ani e vado su Alberto Pasini e la sua Gorge en l'hupe Fontainebleu. Alberto Pasini è importantissimo, ovviamente anche lui è un autore importantissimo, però quest'opera, guardate, è particolarmente importante. Stiamo parlando di un'opera che è stata fatta, è stata dipinta, è stata pensata e realizzata da Alberto Pasini in un particolare periodo della sua vita. Dal carteggi, dai carteggi che noi abbiamo, dai carteggi Pasini-Ciceri, cioè dell'archivio ufficiale degli eredi, noi sappiamo che lui si aggirò per la foresta di Fontainebleu proprio nell'anno 1858, dove poi dipinse altri soggetti a Montigny e a Loing. e quest'opera, attenzione, è proprio di quell'anno, 1858. Qui stiamo parlando di Alberto Pasini che va a Parigi, entra in contatto con la famosa scuola di Barbizon, quindi con la pittura Ample Nair, con la pittura dal vivo, parliamo di un vero maestro che ha saputo giocare le sue opere su questi interessantissimi e difficilissimi contrasti tra chiari e tra luci e scuri. E di fatti, guardate, io spero che le luci illuminino perfettamente quest'opera, questa bellissima olio su cartone di 23,5 per 33,5, perché questo è un capolavoro di gioco sottilissimo e forte nel contempo di contrasti fra luci e ombre, come ha reso il sottobosco, come ha reso invece la foresta che c'è dietro e che c'è sopra. Questo è un altro grande maestro, grande maestro. Questa radura boschiva, assolata, resa con ombre e luci attraverso queste pennellate rapide e questi impasti, guardate, materici dei colori, guardate la densità dei colori, la saturazione negli scuri, però tutti ben definiti, a fronte di una saturazione elevatissima, una grande gamma di scuri, così come nei chiari c'è tutta una gamma di colori giallini, rosacei, ocra, marroncini, quasi bianchi e qui, signore e signori, un grande maestro, ancora una volta, all'opera. Allora, Pasini, Alberto Pasini, abbiamo a base d'asta 7.000 euro, amiche e amici 7.000 euro, a fronte di una stima tra 9 e 12.000 euro per questo capolavoro. Allora, caro amico regista, cambiamo, lasciamo a malincuore queste opere, lasciamo anche Pasini, ma andiamo a un altro grande maestro, ci avviciniamo ad Andrea Tavernier, allora Andrea Tavernier, che qui è rappresentato oggi a questa trasmissione, 17esima puntata di Oltre l'Asta, da ben tre opere, tre opere di Tavernier, di cui ne vediamo due immediatamente qui, una sopra l'altra, e l'altra andiamo a vederla invece nella parete poi di fronte. Però, ah no, è qua di fianco, ecco, è qua di fianco, però adesso andiamo a vederle tutte e tre. Allora, io intanto, di questo grande maestro che si dedicò, pittore di paesaggio intanto, che poi venne, diciamo, si avvicinò di più al divisionismo, e poi lui ha questa grande caratteristica, di questa grande matericità dei colori, anche qua lo vedremo, spatolati, pennellati, con grande forza, con grande gestualità, addirittura, diciamo, anche con una certa ferocia, perché guardate che Tavernier è un altro di quei pittori che lascia la sua impronta, la sua riconoscibilità, con una firma che è data proprio dalla violenza, quasi, della gestualità e dalla matericità del colore, che è decisamente intenso. Guarda, telecamera, inquadrami questi castelli sul Lago Maggiore, perché è un paesaggio spettacolare, non sono passati assolutamente cento anni. Ecco, questa è un'opera di cento anni fa, ma è uno sguardo improvviso, meraviglioso, che ha fissato per l'eternità questo momento placido sulle acque del Lago Maggiore. Possiamo pensare a un momento serale, perché vediamo ovviamente i colori che sono già più freddi, tutti i colori che stanno tra il lilla, l'indaco, il violetto, il bluastro. Guardate che meraviglia. È un 36x45, 5, olio su tavoletta. L'opera è firmata in basso destra, guardate qui, c'è l'autentica di Guido Bertolotti a Tergo. Io parlerei anche di quest'opera, ce l'ho qua vicino. Sono qua che praticamente ci sto andando dentro, perché questi due, questi cipressi, questi alberi che sono qua, che fanno da primo piano, spalancano la vista a questa visione dei castelli di Cannero e poi a loro volta, che sono in secondo piano, spalancano la visuale infinita con l'occhio che corre verso queste vallate e verso queste aperture dove oramai incombono le luci sarali. Ma guardate questi riflessi, guardate queste case che si riflettono sul lago, guardate i riflessi dei castelli sull'acqua, semplicemente senza parole. Di fronte a opere così, posso dire un termine forte, ma chi è qua vicino e se venite qui in galleria in corso Tassoni 56 a vederle queste opere capirete che questo termine non è forte, di fronte a queste opere eccezionali non ho parole. Io spero solo che la forza di queste opere, di questi quadri, attraverso la telecamera, entri nei vostri computer, entri nelle vostre tv e vi convinca che queste opere sono grandi capolavori e nel contempo sono grandi sicuri investimenti. Non c'è assolutamente dubbio su questo, ve lo posso garantire. Allora diamo ancora stima 9.000, 12.000, base d'asta 6.000. Andiamo sull'altro tavernier, dietro Villa Serra, a Grotta Ferrata e cosa diciamo su quest'opera? Intanto che anche qui abbiamo questa grande matericità nei colori, guardate la boscaglia, gli arbusti attraverso i quali si erge questa bella architettura dove la morbidezza della parte centrale del frontone costituisce anche la centralità della tavoletta, dell'olio su tavola e poi ancora una volta anche qui guardate che meraviglia questo cielo, guardate che influenze che ci sono qui, ma c'è tutto qua dentro, c'è la pittura francese, c'è la scuola italiana, c'è la scuola torinese, c'è l'opera veramente di Tavernier che si esprime con tratti sempre precisi, sempre forti, sempre sicuri, contrasti elevati o anche quando invece apparentemente i contrasti come nel caso della boscaglia e delle siepi sono molto più ottenuati, in realtà con una gamma cromatica semplicemente favolosa. Allora, dietro Villa Serra, Grotta Ferrata, 37 per 28, grande olio su tavola, opera firmata in basso a destra, base d'asta, 3.000 euro, a fronte di 4.000, 5.000, 6.000 euro di stima, non ci sono dubbi, chiamate, telefonate, i numeri li avete in sovrimpressione perché queste opere non possono lasciarvi insensibili. Qui c'è la poesia, c'è l'arte. Caro regista, avvicinati ancora a quest'ultimo Tavernier e poi, terminato quest'ultimo Tavernier, eccolo qua, e qua siamo a un capolavoro, cari amici e cari amici, guardate qui, particolare di lago, siamo a un capolavoro di resa cromatica, di una situazione di luce impossibile. Rendere bene questa grande collina che circonda questo lago in quest'ora della giornata, dove oramai la penombra è forte, è cosa che può essere permessa e risolta solo ai grandi artisti. Andrea Tavernier, che è una persona, che è un artista tra i miei favoriti, posso anche sbilanciarmi a dirlo, allora, particolare di lago, 26,5, per 37, olio su tavola, opera firmata in basso a destra, base d'asta, soltanto, ripeto, soltanto, 2.500 euro e per la terza volta vi dico soltanto, a fronte di una stima di 3.500, 5.000 euro e guardate che quest'opera, come tutte le altre che avete visto, li vale tutti, ma vale molto di più. Allora, cari amici e cari amici, io con questo ultimo Tavernier non posso stare a descriverlo oltre, perché non ho il tempo, abbiamo presentato in questo momento sette opere, una più bella dell'altra, sette opere favolose di tre artisti, eh? Abbiamo visto Tavernier, abbiamo visto Pasini e abbiamo visto Delle Ani. Adesso ci concediamo un attimo di tregua, andiamo nell'altra sala degli orologi, dove il grande esperto di orologi da tasca, da polso e di pendola, Patrick, ci farà vedere dei pezzi semplicemente favolosi. Grazie. Siamo nella sala dove abbiamo allestito questa piccola presentazione di una parte, ripeto, degli oltre 350 lotti che fanno parte dei 1200 lotti che compongono l'asta completa degli orologi, sia da polso che pendole che orologi da tasca, perché devo dire che in questi due mesi, due mesi e mezzo che abbiamo raccolto per preparare il catalogo di giugno, abbiamo trovato tantissimi, tantissimi pezzi, devo proprio dire di essere molto contento. Sono arrivati molti orologi da polso, sono arrivate delle pendole strepitose, sono arrivati degli orologi da tasca, veramente un'importante collezione di diversi modelli con meccanismi particolari, movimenti particolari, orologi da viaggio e una serie infinita. Allora, tanto per farlo, lo vediamo qua, ripreso proprio vicino a noi, un po' in onore dei 150 anni, dei festeggiamenti per i 150 anni dell'Unità d'Italia, abbiamo avuto la fortuna di trovare questo pendolo, vedete c'è raffigurato sopra, Vittorio Emanuele II che saluta, su questo destriero al galoppo, Vittorio Emanuele II che saluta. Questo qua è uno dei 40 e più orologi a pendolo che saranno presenti sul catalogo dell'asta 114, quella appunto del 14 di giugno. È un pendolo in antimonio, vedete ha la sua campana in vetro originale su base in legno, è un orologio della metà dell'Ottocento, infatti non si legge bene, ma nel medaglione posto qua sotto il quadrante c'è proprio la scritta che dice per l'independenza italienne 1855 e ricorda l'ingresso di Napoleone III insieme a Vittorio Emanuele II a Milano, infatti accade proprio nel 1855. Dopo che erano stati battuti gli austriaci, i piemontesi con i francesi sono entrati a Milano festeggianti perché anche la Lombardia in quel caso era stata annessa al piccolo ma in crescita regno d'Italia e all'è vera venuta proprio la moda di queste pendole parigine a soggetto in quegli anni e si è iniziato diciamo già dalla fine del Settecento e è andato avanti fino agli anni venti del Novecento però in questo periodo l'Ottocento proprio era il periodo in cui si costruivano questi orologi a soggetto si metteva proprio sopra la pendola il personaggio di moda del momento era un po' un'iconografia tipica dell'epoca guardate che bei baffoni che ha con queste medaglie il cavallo e così via è un pezzo molto particolare perché intanto arriva a noi con la sua campana in vetro originale pensate questo vetro soffiato dell'epoca del 1855 quando è stato costruito l'orologio ha la sua base in legno originale l'orologio è funzionante perché è revisionato molti dei nostri orologi sono funzionanti perché sono revisionati li diamo tutti per garantiti come non come funzionamento quelli che li indichiamo alcuni sono da revisionare ma questo qua è completamente funzionante è un orologio della metà dell'Ottocento funzionante movimento parigino otto giorni di carica e ha la suoneria delle ore e delle mezze su campanello a fianco ecco possiamo vedere ne abbiamo due non sono molto in favore di camera ma io cerco di spostarteli un po' eccoli qua sono sempre orologi francesi perché come sappiamo la pendoleria francese dagli inizi dell'Ottocento per tutto il XIX secolo ha costruito i modelli più interessanti c'era una produzione molto molto fiorente anche perché la Francia è sempre stata un paese molto molto ricco e quindi ha prodotto per le abitazioni che avevano necessità di avere in ogni stanza in ogni cammino sopra ogni mobile una serie di pendoli di orologi importanti questo qua che stiamo inquadrando adesso è un orologio in ceramica voi vedete un orologio in ceramica non è in legno ma in ceramica finemente dipinta vedete che ha tutti questi fiori in rilievo il movimento è sempre un movimento parigino quindi con la carica che dura otto giorni guardate che bello il disegno proprio sulla base forse non si vede bene però i fiori sono in ceramica finemente modellati dipinti il quadrante in argento ha le classiche lancette breguet che sono queste qua con il foro sulla lancetta due fori di carica uno per il tempo e uno per la suoneria la suoneria appunto delle ore e delle mezze su campanello anche questo un orologio che presenteremo in asta il pomeriggio del 14 e la base d'asta ecco quello di prima non ve l'ho detto Vittorio Emanuele II parte da una base d'asta di 1000 euro che se volete potete confermare subito telefonando al numero che è in sovraimpressione perché già adesso lo ripeto l'esposizione partirà ufficialmente la domenica 5 ma l'esposizione qua in corso tassoni 56 a Torino alla casa d'asta di Sant'Agostino è già pronta noi abbiamo già tutto esposto tutti i 1200 lotti sono qua sono visibili fino a sabato con l'orario classico di galleria 9.30 12.30 15.30 19.30 e da domenica fino a domenica 12 quindi da domenica 5 a domenica 12 con orario continuato dalle 10 alle 20 il sabato e la domenica fino alle 22 quindi un orario molto lungo che dà la disponibilità a tutti anche a chi è appena tornato dal ponte perché con la festa del 2 giugno sicuramente molti di voi andranno al mare o ancora qualcuno in montagna potranno venire qua già dalla domenica 5 a vedere l'esposizione che si tiene qua in corso Tassoni 56 quindi vedrete Re Vittorio Emanuele Cavallo base d'asta di 1000 euro vedrete l'altro orologio in ceramica con la base d'asta di 2000 euro e a fianco ecco sempre proseguendo questo vaso in cristallo ecco lo giriamo un pochettino meglio così si può vedere è una coppa dell'inizio dell'800 siamo sempre in Francia ed è un classico orologio a vaso però normalmente si vedono in bronzo ne abbiamo avuti anche nell'asta precedente in bronzo dorato in bronzo brunito anche in quest'asta ne abbiamo diversi però questa sera vi voglio presentare questo modello qua perché è in cristallo un materiale molto delicato se pensiamo che dopo 200 anni è ancora giunto a noi in perfette condizioni è un orologio che ha degli inserti in bronzo dorato e cristallo una cosa molto molto particolare vedete il lotto 844 come vi abbiamo detto ci sono oltre 1200 lotti in asta gli orologi passando il martedì poveriggio hanno già raggiunto una numerazione molto alta è il lotto 844 questo orologio in cristallo degli inizi dell'800 con il movimento parigino quindi anche questo ha una durata di carica di 8 giorni la suoneria su campanello delle ore e delle mezze guardate che bello il quadrante sono i quadranti più belli questi perché hanno la particolarità di non essere o tutto in smalto o tutto in metallo argentato come quello di prima questo è in smalto e bronzo dorato alternati quindi erano orologi che erano le Ferrari dell'epoca erano orologi che erano molto costosi perché pensate all'epoca chi poteva permettersi una pendola di questo tipo questo orologio è in ottime condizioni anche questo è revisionato da poco infatti il movimento è in ottime condizioni e la base d'asta di questa pendola parigina in cristallo l'otto numero 844 è di 3800 euro che è una base d'asta molto interessante perché orologi di questo calibro su in Francia Parigi da Drouot fanno dei risultati d'asta e hanno delle basi molto molto più care noi riusciamo a proporveli a delle basi d'asta che sono molto interessanti spostandoci diciamo sul lato mio sinistro ma destro del televisore vi presento un'altra pendola anzi sono due perché ne vediamo una ecco qua la inquadriamo così questa è una pendola inglese perché siamo riusciti ad avere una vasta scelta abbiamo presentato una parte di pendoleria francese ma abbiamo anche questo importante importante orologio a pendolo questo è un bracket clock come vengono definiti gli orologi bracket cioè che hanno la maniglia perché ha la maniglia in testa un orologio inglese dell'inizio del 700 il lotto in asta è l'820 quindi passerà insieme agli altri orologi da polso una parte perché poi una parte passeranno anche alla sera del 14 questo passa al pomeriggio il lotto è il numero 820 un orologio scolpito in noce il periodo è il Queen Anne perché in Inghilterra usa un po' come usa in Francia noi definiamo un mobile stile Luigi 15 o Impero o Luigi 14 anche in Inghilterra logicamente noi usiamo la dicitura francese perché non abbiamo mai sentito dire un mobile di Carlo Emanuele III piuttosto che II sarebbe più corretto perché di fatto è una dicitura che se un mobile piemontese dovrebbe seguire come denominazione quella dei sovrani piemontesi così come viene fatto in Francia in Inghilterra alla stessa maniera però con i reali logicamente inglesi viene indicata l'epoca e questo essendo l'inizio del 700 viene nominato epoca Regina Anna è un orologio che è alto 43 cm come ho detto la cassa in noce il quadrante è in bronzo dorato e argentato e ha questi inserti in questi mascheroni e ai lati classico proprio degli orologi inglesi bracket clock di quest'epoca perché già dalla metà del 600 fino alla metà del 700 avevano questo tipo di dimensioni poi sono diventati più grandi cominciamo a vedere gli modelli Westminster che sono modelli molto molto più grandi con macchine più complicate fanno anche suoneria dei quarti e questo qua ha la suoneria ecco che si può tirare vedete questa cordicina qua a fianco a differenza dei francesi non ha una suoneria a passaggio come si dice quindi delle ore e delle mezze ma una suoneria a richiamo infatti se io tiro la cordicella ecco sentite l'orologio suona e suona i quarti cioè mi dice che ore sono e il quarto corrispondente da dove nasce questa esigenza il bracket clock che come vi dicevo è chiamato così perché ha la maniglia in testa eccola qua adesso la vediamo vedete questa maniglia perché? dice che se ne fanno della maniglia perché era un orologio trasportabile era un orologio da viaggio no era un orologio che veniva portato siccome erano costosissimi questi orologi e questo vi ripeto è una base d'asta poi ve la dirò alla fine ma è veramente molto interessante guardate anche le condizioni splendide di giorno rimanevano nei saloni della parte bassa della casa perché ogni abitazione anche se ricca anche se facoltosa poteva permettersi uno al massimo due questi orologi ma erano già diciamo i grandi nobili di giorno veniva tenuto nella parte bassa della casa e di sera c'era un valletto che lo prendeva per la maniglia e lo portava nelle camere da letto da qui nasceva questa esigenza di avere il richiamo perché? perché di notte logicamente il suono della suoneria avrebbe dato fastidio con questo richiamo il padrone di casa di notte tirava la cornicella e sentiva appunto suonare l'orologio quindi è una cosa particolare questo lotto in asta anche questo passerà il pomeriggio del 14 e la base d'asta di questo orologio qua è di 6.000 euro vi assicuro che è un prezzo molto molto interessante se voi guardate i risultati d'asta che fanno in Inghilterra questi orologi che sono orologi inglesi per cui la passione degli inglesi per gli orologi è molto nota fanno dei risultati d'asta molto molto più elevati quindi voi potete già chiamare in questo momento al numero che state vedendo lo 011 437 77 70 vi registrate se non siete clienti perché vi ricordo che per partecipare all'asta dobbiamo avere i vostri dati quindi ci serve sicuramente la carta entità e il codice fiscale dopodiché voi siete liberi di partecipare o durante la trasmissione o in queste settimane di pre-asta venendo qua visitando l'esposizione e fissando già le basi d'asta perché questo è già possibile quindi siete i primi ad avere la possibilità di fissare le basi d'asta e di potervi poi aggiudicare uno dei 1200 lotti che noi abbiamo sui nostri due cataloghi direi che dopo questa piccola introduzione ripasserei la parola a Michele che continua nella presentazione dei dipinti che questa sera sono al centro della presentazione insieme agli orologi ci alterniamo un pochettino per darvi un po' un'idea dopo torneremo qua per presentarvi anche gli orologi da polso io direi che se Michele è pronto passiamo la parola all'altra sala la sala dei dipinti in che sala sei Michele? in che sala e in che epoca ti vedrò? ti vedrò apparire tra dipinti di qual'epoca? mi hai fatto vedere degli splendidi delle anni e adesso secondo me sei vediamo un po' sempre nell'ottocento forse non lo so ma lo scopriremo tra un attimo a dopo grazie grazie Patrick e siamo sempre nell'ottocento e che ottocento cari amici allora intanto abbiamo io direi qui la telecamera di spostarci fin dall'alto subito e andrei già subito a vedere Angelo Morbelli Angelo Morbelli doveva fare musicista poi a causa di una sordità progressiva e si dedicò per fortuna alla pittura quindi in qualche modo questo grande artista ha saputo esprimersi e lui appartenne poi dopo un periodo di soggetti di genere si dedicò sempre di più a pitture di stampo divisionista e di fatti qui abbiamo proprio un bellissimo esempio di questa sua arte di questa sua pittura è una delizia guardate questo olio su cartoncino 22x14 incorniciato da questa meravigliosa cornice dorata a sua volta sostenuta inserita in una cornice brunita e di velluto molto rosso cardinale molto scuro qui c'è un parere verbale favorevole della professoressa Eni Paul Kinsack abbiamo veramente una bellissima opera scorcio fiorito del 1904 la telecamera sta inquadrandolo molto bene lui dipinse molto anche paesaggi e risaie del Casalese perché poi abitò vicino Rosignano a Monferrato si dedicò anche alla rappresentazione di paesaggi montani e poi di Angelo Morbelli sono importanti anche tutti i ritratti che lui ha fatto alla moglie dedicati alla maternità ha fatto tutta una serie di quadri di opere dedicati alla maternità perché da sua moglie che si chiamava Maria Maria Pagani ebbe quattro figli e quindi con quattro figli ebbe abbondanti periodi di maternità da dipingere però io qui vorrei ritornare su questo momento divisionista con questo bellissimo scorcio fiorito dell'anno 1904 dove in questa piccola deliziosa olio su cartoncino abbiamo veramente la grazia la delicatezza ma nel contempo anche diciamo pure la decisione di mano di polso di un artista veramente veramente grande un altro grande maestro Angelo Morbelli qui abbiamo una stima che varia dagli 8.000 ai 10.000 euro per veramente torno a soffatto che è un maestro importante per una base d'asta che Casa d'asta e Sant'Agostino riserva i suoi clienti invece di solo 5.000 euro quindi veramente ancora una volta la sorpresa la bella sorpresa di trovare dei valori economici assolutamente contenuti a fronte di valori artistici e pittorici espressivi assolutamente pregnanti e assolutamente invece quotatissimi allora abbassiamo la telecamera facciamo solo un leggerissimo momento di ripresa anche questo non perché sia meno importante ma perché ne abbiamo tanti ma ne abbiamo tantissimi per cui vogliamo darvi un po' un assaggino di tante opere Boetto Giulio Boetto festa di paese olio su cartone 18x24 guardate quanta influenza francese anche qui ma guardate anche quale maestria nel separare le macchie di colore nel separare le divisioni di contrasti e nel rendere questa vitalità di questa festa di questi gruppi di persone che veramente paiono in movimento guardate di fatti come nell'apparente staticità delle sedute delle persone sta tutto il grande movimento primaverile perché guardate i colori sembra di vedere glicine dappertutto di questa grande festa di paese 2800 euro base d'asta scendiamo a un altro grande l'abbiamo visto già in un'altra trasmissione abbiamo presentato un'altra opera se vi ricordate era un'opera in cui c'era un contadino che con la bilancia stava pesando delle galline estratte dai cestoni di vivini ovviamente di ricolmi di galline che aveva portato questo contadino aveva il suo acquirente davanti a lui ed era una magnifica tela ripresa dal vivo al mercato di Chivasso e ancora una volta Lupo Alessandro che ricordo dipingeva tantissimo i mercati la loro vita la loro vitalità i loro movimenti i loro colori il loro vociare che sembra quasi che vengono fuori dalle sue tele ancora una volta dipinto il mercato di Chivasso guardate di fatti il bellissimo duomo che c'è allo sfondo il duomo di Chivasso che possiamo ancora oggi ammirare veramente tra altre cose una bellissima opera e guardate in questo olio su tavola 50x35 guardate che l'opera è firmata qui in basso destra e anche al retro guardate ancora una volta Alessandro Lupo questo grande pittore grande maestro dei mercati come ha tirato fuori la vita il movimento la moltitudine di colori inondati da questa luce di sole che arriva da destra e dall'alto del quadro vedete le ombre da questo lato guardate questa luce radente che arriva a colpire guardate come ha reso che bellezza questa carretta in primo piano questa carriola colma probabilmente di verdura di fiori vedete qualcosa che è caduto qui davanti alla ruota e guardate questa bella figura femminile che sta avanzando verso di noi con delle ceste di fiori o comunque di ortaggi gialli caldi guardate di fatti il calore di questo vestito questi fiori questo copricapo questo foulard della donna come emergono dalla vitalità e dalla massa del mercato ripeto al quale fa da sfondo questo bel duomo di chivasso e questo bellissimo intenso cielo molto denso di colori allora anche qui 6.000 8.000 euro di stima anche qui base d'asta giusto per stupirvi favorevolmente giusto per dire che non potete non chiamarci che non potete rimanere insensibili base d'asta ripeto solo noi di casa d'asta e sant'agostino possiamo fare delle basi d'asta che sono la metà delle stime guardate che non ne trovate altri per il mondo e soprattutto noi di casa d'asta e sant'agostino vi diamo grandi firme sulle quali noi ne rispondiamo perché sono tutte opere d'arte autentiche e noi ne rispondiamo da 42 anni a tempo indeterminato e chi fa degli acquisti chi fa delle come dire delle offerte di asta e riesce a uscire vincitore di queste aste sa che il prodotto che l'opera che ha comperato che l'opera d'arte che la tela che l'orologio che il mobile di design che l'oggetto importante che ha acquistato è un vero investimento perché è sempre vero reale non ci sono falsi cari amiche cari amici cari amanti dell'arte da 42 anni non vi inganniamo allora proseguiamo abbiamo visto Tavernier abbiamo un bellissimo lavoro di scaglia molto molto interessante per questi colori giocati su tenuissime differenze di tonalità scure ma io a questo punto scenderei con la telecamera e andrei al primo dei Gheduzzi perché abbiamo sette opere di Gheduzzi sono sei di Giuseppe e una di Cesare la famiglia Gheduzzi che arrivava da Crespellano in provincia di Bologna il padre Ugo con i suoi tre figli tutti pittori tutti affermati importanti sono diventati scenografi del teatro Regio sono diventati i pittori favoriti dalla casa Savoia dalla casa Reale e da tanti nobili piemontesi sono diventati tutti bravissimi disegnano hanno dipinto meravigliosi scorci montani oppure di pianure con borghi con baite con interni di stalle piuttosto che interni di case contadine comunque riconoscibilissimi abbiamo nell'altra parete e poi quando facciamo la passaggiata veloce andremo a vederlo un Gheduzzi semplicemente gigantesco ma questi che sono più piccoli non per questo sono meno importanti sono semplicemente spettacolari allora io qui farei una carrellata veloce perché guardate io mi soffermerei su queste baite a Val Tournansch guardate 33x45 olio su tavola autentica dell'architetto Ugo Gheduzzi su fotografia opera firmata in basso a sinistra stiamo parlando di Giuseppe Giuseppe Gheduzzi base d'asta 5500 euro poi abbiamo Ruscello di Campagna guardate che meraviglia questo rivoletto di acqua guardate che meraviglia questo rivolo d'acqua che sta scendendo attraverso queste scarne queste scabre pietre che fanno da sfondo a questo prato che invece incornicia tutta quanta la scena e che a sua volta in primo piano fa da sfondo a questo filare di alberi e poi meraviglioso questo cielo che ci viene incontro la prospettiva del Ruscello la prospettiva del cielo questo quadro sta uscendo dalla tavoletta è un olio su tavoletta ci sta piombando davanti ma come anche le baite che abbiamo visto prima la prospettiva della stradina che in discesa ci viene incontro amiche e amici è come se ricevessimo l'invito ad andare su per questa stradina e andare a visitare queste baite dove c'è vita guardate il fumo che emerge dai comignoli dove c'è questo cielo di montagna mai uguale blu e solcato dalle nuvole bianche e guardate questi ciuffi di cespugli davanti come muovono tutto questo prato questo declivio di prato io sono allibito questa è la poesia della pittura questa è la poesia delle baite e la poesia della montagna Giuseppe Gheduzzi allora ritorniamo Ruscello di Campagna base d'asta 2500 euro siamo sempre a metà della stima e andiamo ancora oltre guardate là il Monviso telecamera inquadrano perché è spettacolare il Monviso in tutta la sua imponenza guardate i ghiacciai che scendono giù guardate le balze le gole gli anfratti attraverso i quali si spaccano le vallate che stanno portando questa meravigliosa montagna accuminata che svetta là al fondo a sinistra dell'opera grandissimo Giuseppe Gheduzzi a 3000 euro di base d'asta ancora una volta io non dico più nulla a fronte di una stima doppia e scendiamo la telecamera e andiamo su un altro paesaggio di alta montagna guardate qui ci troviamo in Val Tournance guardate come la neve la neve croce e delizia degli artisti soltanto i grandi possono avvicinarsi a dipingere la neve in un modo credibile e a volte incredibile e Giuseppe Gheduzzi sicuramente è un grande guardate come ha trattato questo manto spessissimo di neve vediamo quanta ne è caduta sui tetti di queste baite di questa di questa piccola frazione di montagna grande 50x65 importante olio su compensato opera firmata in basso a destra anche qui Ugo Gheduzzi architetto che ci dà l'autentica su fotografia base d'asta 9.000 euro stima doppia dai 13.000 minimo a 18.000 Massimo ma scendiamo ancora telecamera guarda ti invito ancora qui Carlo Musso parlavamo di un grande che sa trattare la neve ed era Giuseppe Gheduzzi guardiamo anche questa grande vallata in ombra di Carlo Musso dove la neve completamente in ombra perché il sole ovviamente tramontato dietro questa vallata molto chiusa guardate il freddo della sera che arriva guardate anche qui come la neve soffice come la neve sembra lì quasi scricchiolante sotto il nostro passo cedevole al nostro peso guardate anche qui che grande meraviglia casa d'aste Sant'Agostino tredicesima e quattordicesima tredici e quattordici giugno cento e tredicesima e cento e quattordicesima asta importantissime quante opere che meraviglia che lavori che firme che artisti guardate amici amici tutti i giorni potete venirci a trovare in orario di casa d'aste quindi nove e mezza dodici e mezza e poi quindici e trenta diciannove e trenta però vi ricordo che dal cinque domenica fino a domenica dodici l'orario è continuato tutti i giorni dalle dieci alle venti mentre il sabato e la domenica è dalle dieci alle ventidue allora vi vogliamo invitare ad abbandonare un attimino il caos del traffico le tensioni del lavoro venite a rilassarvi perché questa veramente è una seduta dall'analista nel senso che se ne esce ritemprati venite qui a guardare con l'occhio del vero amante e del vero intenditore dell'arte venite in corso tassoni 56 vi aspettano 1200 lotti di cui la metà sono opere d'arte dipinti dell'800 e del 900 italiano ma non solo attenzione voi venite qui guardate con il vostro cuore con il vostro occhio con l'occhio del cuore queste opere perché di fronte a questi capolavori non si rimane assolutamente indifferenti ma si rimane assolutamente invece colpiti e poi se vogliamo metterla sull'aspetto invece più tecnico venite anche con l'occhio della testa con il ragionamento perché qui noi a Casa d'Aste Sant'Agostino in questo momento storico dove le grandi aste da oramai diverse mesi stanno segnando continui aumenti quindi valori in ascesa continui perché è ritornato l'investimento di qualità allora se volete l'investimento sicuro di qualità veniteci a trovare o partecipate alle nostre aste perché con queste opere con queste basi d'asta voi non potete fare altro che acquisti oculati ancora una volta nell'interesse del cuore e dell'anima e anche nell'interesse del ragionamento allora spostiamoci caro amico andiamo a due grandissimi artisti Celestino Turletti e Francesco Gamba grande Celestino Turletti uno dei più grandi incisori di tutti i tempi un uomo che ha fatto la storia dell'arte dell'incisione delle acque forti e che ha dipinto in proporzione meno rispetto ai lavori di incisione che ha fatto e quindi a maggior ragione i suoi dipinti sono ancora più importanti e ancora più significativi lui ha passato un periodo importante perché è stato intanto allievo di Giuseppe Bertini scusatemi del famoso incisore stiamo parlando di un incisore famosissimo adesso mi segno subito il nome ecco Andrea Gastaldi giustamente giustamente Andrea Gastaldi famoso anche lui il maestro importantissimo e appunto Celestino Turletti dopo aver avuto un inizio da incisore si è dedicato a tutto un periodo in cui ha riprodotto mirabilmente dipinti suoi o di altri poi è ritornato alle acque forti e poi è ritornato anche alla foto incisione cioè gli ultimi anni della sua vita sono stati anche significativi per la foto incisione nell'arco di lui ha ricevuto tantissimi premi ma io torno subito a quest'opera perché come ho detto prima lui ha avuto una produzione pittorica che come diceva lo Stella la Stella era un famoso critico dell'epoca è stata un'incisione pittorica di altissimo significativo livello certo lui è stato un grande incisore ma certo è stato un gigantesco nome dell'arte pittorica guardate che lui aveva questa grazia nel dipingere aveva questa vena umoristica che qui troviamo tutta quanta in questa grande opera del 1872 intitolata Carnevale notiamo come lui ha saputo mettere un attimo il come dire la sottolineatura sul momento curioso sul momento anche quasi comico di queste due maschere vestite da Carnevale che stanno ritraendosi in silenzio con un gesto quasi come dire di vergogna perché nella parte opposta dell'opera illuminata drammaticamente sta entrando una processione una processione che ha sicuramente un aspetto religioso e sicuramente un aspetto anche di intensità drammatica e questo è molto pregnante perché ovviamente definisce tutta la tematica del quadro e guardate ancora cari amici cari amici questa figura femminile nell'ombra quasi a sottolineare un ulteriore momento di commozione o di forte intensità di ciò che sta avvenendo stiamo parlando di una grande opera di un grande maestro non facile da trovare alle aste proprio perché Celestino Turletti non ha fatto una grandissima come dire serie di opere su tela o di opere pittoriche quindi vi sto invitando cari amici cari amici a porre particolarmente attenzione a questo grande 95x72 olio su tela guardate la firma qui Celestino Turletti 1872 provenienza dagli eredi dell'artista attenzione guardate che qui stiamo parlando di un'opera di cui la base d'asta assolutamente non rende giustizia possiamo dirlo perché questa come tutte le altre è un'opera fortemente significativa stiamo parlando invece di una base d'asta incredibilmente conveniente 10.000 euro incredibile incredibile torno a ripeterlo incredibile perché di fronte a un'opera così io mi aspettavo una base d'asta tranquillamente se non doppia diciamo tranquillamente di un 150% superiore abbiamo una base di 10.000 euro signore e signori chiamateci perché queste opere stanno aspettando il giusto vero amante dell'arte il giusto vero intenditore e anche il giusto vero personaggio che può capire come può investire in un modo assolutamente sicuro ma questo guardate che veramente lo sottolineo queste non sono le polizze finte non sono gli investimenti fantasma o di Bond stiamo parlando non di cose squallide stiamo parlando di opere d'arte di elevato valore artistico di elevato valore umano e di elevato valore economico Celestino Turletti andiamo a un altro grande Gamba Francesco Gamba guardate qui un artista dove già subito come dicevano i critici contemporanei emerge la sua grande capacità di giocare su luci e ombre intense guardate quali toni quasi caravaggeschi scusatemi il parolone grande ma di fronte a questi artisti i paragoni reggono e poi guardiamo anche come c'è la scuola olandese che l'ha fortemente influenzato stiamo parlando di un artista di cui abbiamo opere importanti in tante tante gallerie alla GAM qua di Torino la galleria d'arte moderna piuttosto che alla biblioteca nazionale piuttosto che a Roma stiamo parlando come già Celestino Turletti ma come Gheduzzi ma come Delleani ma come Tavernier io scusate mi infervoro perché purtroppo quando parlo di questi nomi non mi colpisce quasi la sindrome di Stendhal ma mi infervoro stiamo parlando di un artista che è delle più importanti pinacoteche o raccolte del mondo e stiamo parlando di un artista che ha saputo per un certo periodo fare paesaggi per un certo altro periodo si è dedicato al momento storico e in particolare al momento navale poi è ritornato ai paesaggi soprattutto marini e qui ne abbiamo un gigantesco fulgido splendido esempio perché come trattava il mare lui non lo trattano in tanti e guardate telecamera inquadra qui perché io sono affascinato inquadrami allora intanto il colpo d'occhio è qua questa gigantesca casa sul bagnasciuga del mare quasi uno scoglio architettonico umano che si frappone fra il borgo a proteggerlo dalla violenza del mare ma poi guardate telecamera vai sulla sinistra dell'opera queste scogliere ripide a picco e poi guardate questi uomini con i muli con i cavalli che stanno probabilmente togliendo dalla secca questa gigantesca imbargazione un due alberi vedete coricato con la sua grande pinna impiantata dentro il bagnasciuga e poi guardate questo mare guardate questo bagnasciuga dal quale il mare si è ritirato sembra che sia ancora lì sembra che l'umidità del mare nella sabbia sia ancora lì e che questa grande fetta di luce abbia appena iniziato ad asciugare la rena del mare guardate poi amiche e amici amanti dell'arte ma qui guardate questo cielo da diluvio universale e invece il diluvio c'è già stato questi sono semplicemente i risultati della burrasca la barca arenata il cielo si sta squarciando e questa casa gigantesca imponente sta qui a dividere il borgo dal mare e sta qui a dividere la terra dal cielo e poi telecamera inquadrami io non ho parole inquadrami queste figure perché qui abbiamo la grande scuola olandese o la grande scuola fiamminga di figura coniugata con il grande talento di un grande artista gamba francesco paesaggio in normandia 1848 grande importante 103 per 63 olio su tela opera firmata datata in basso a destra stima 12 16 mila euro base d'asta 8 mila venitela a vedere perché quando siete qua davanti capirete cosa vuol dire provare l'emozione profonda nel cuore nell'anima meraviglioso proseguiamo abbiamo delle opere magnifiche io salto treves giacchetto levis bo ferraudi guardate salto andiamo direttamente al centro guarda abbiamo due opere splendide gigantesche bellissimo geduzzi angelo geduzzi le gole del cian costa azzurra io mi metto qua davanti alla telecamera caro amico mi sposto qua vi ricordo che poche settimane fa abbiamo avuto un altro angelo garino angelo garino che nel periodo del liberty nel periodo floreale andò a vivere sulla costa azzurra beato lui e si fece valere divenne un valente importantissimo artista perché coniugò assieme a questa pittura molto anche qui divisionista in certi momenti molto franta coniugò anche gli stilemi dell'art nouveau e venne apprezzato e il suo divenne un operato molto caratterizzante molto caratteristico le sue opere ebbero tantissimo mercato in tutto il sud della Francia e poi in Italia e attenzione ce l'hanno per fortuna tuttora questo mercato vivace vivacissimo perché Angelo Garino con le sue prospettive guardate queste gole del Can in costa azzurra guardate che prospettiva guardate che coraggio nel rendere un particolare momento solare della giornata dove le gole diventano quasi rosacee e dove ovviamente si intuisce questo grande calore che emana perché è una giornata estiva questa e il Can è qua questo piccolo torrentello che sta scorrendo quasi secco ma c'è c'è sembra quasi di sentirne il rumore in mezzo a queste gole di terriccio riarso anche qui Angelo Garino un paesaggista che ha saputo veramente coniugare pittura divisionista franta e stilemi dell'Arnavaux abbiamo 80x60 grande olio su tela opera firmata in basso a destra signore e signori tenetevi ma non perché vi sto spaventando con una cifra alta tenetevi perché vi sto dicendo una cifra che mai più immaginereste che sia così bassa base d'asta 4000 euro telefonate 011 43 77 77 0 www.santagostinoaste.it oppure corso Tassoni 56 Torino signore e signori la base d'asta è lì che vi aspetta fate subito la vostra offerta chiamateci veniteci a trovare contattateci registratevi per tutti i nostri clienti nuovi in omaggio senza nessun problema da parte vostra non ci sarà trucco assolutamente vi viene inviato il meraviglioso catalogo di questa cento e tredicesima asta un catalogo dove ci sono 600 opere dell'ottocento e del novecento e contemporanei dipinti guardate solo qui vi faccio vedere brevemente che meraviglia e ovviamente invito a venire qui in corso Tassoni 56 perché ugualmente vi omaggiamo di questo catalogo perché noi di Casa D'Aste Sant'Agostino i nostri clienti che siano vecchi affezionati che siano nuovi sono degni del massimo rispetto e questo chi ci conosce lo sa da oltre 42 anni noi abbiamo l'arte di vendere l'arte autentica e noi di Casa D'Aste Sant'Agostino a differenza di tante altre case d'asta rispondiamo a tempo indeterminato dell'assoluta autenticità delle opere che vedete e che comprate da noi non dico altro telecamera inquadrami l'ultima opera che facciamo vedere di Giuseppe Gheduzzi grande immenso Giuseppe Gheduzzi che famiglia Ugo con i suoi tre figli Cesare Mario Giuseppe che famiglia mercato di Portapalazzo olio su compensato 50x65 opera firmata in basso a destra e sul retro autentica anche qui dell'architetto Ugo Gheduzzi su fotografia stima 22-30 mila base d'asta e scusate se è poco 15 mila non ci sono altre case d'asta che vi danno la base d'asta a metà della stima stima per difetto cari amiche cari amici e qui io lascio parlare le immagini perché questo mercato di Portapalazzo siamo attorno agli anni 910 920 guardate che meraviglia che spaccato prima abbiamo visto il mercato di Alessandro Lupo un altro grande artista di mercati guardate che ci dava questa grande dinamicità guardate qui la solennità del momento della pesa guardate questo contadino che sta pesando la sua frutta perché queste sono frutti di fronte alla cliente con in mano i soldi guardate le altre clienti in attesa guardate la solennità del gesto del contadino che è abituato a lavorare al sole a misurare i gesti non è un agitato come me e anche in questo momento in cui sta pesando in un'operazione così semplice guardate come Giuseppe Giuseppe Gheduzzi ha colto la dignità la forza di questo lavoratore dei campi qui dentro c'è la poesia e il rispetto per il lavoro per la terra grandi grande famiglia Gheduzzi grandi telecamera spostiamoci perché mi emoziono qui siamo di fronte a opere una una più bella dell'altra siamo davanti care amiche cari amici io mi sposto siamo davanti a queste ultime cinque opere ma le guardiamo molto velocemente poi lasciamo ancora magari la parola patrica cosa ne dice regia e poi facciamo una cavalcata in mezzo all'arte del novecento non vedo l'ora di salire sul destriero bianco limpido puro energico dell'arte allora intanto soffermiamoci beh io non ho più parole guardate quel paesaggio lassù guardate Cesare Ferro con questa attesa guarda telecamera inquadrami questo meraviglioso volto di donna guardate signore e signori gli occhi il naso la bocca i capelli e guardate il gesto morbido ma non molle del braccio siamo nella esemplificazione della donna Liberty siamo nella donna degli anni novecento e dieci novecento e venti con tutta la sua sensualità mamma mia io non ho parole sono qui davanti questa donna vorrei fare l'avete visto quel film di fantascienza dove quell'uomo si chiamava Sam Ware da qualche parte nel tempo quell'uomo si innamorava di un quadro di una figura femminile e trovava il modo di andare a ritroso nel tempo nel 1800 a conoscere quella donna se andate a vedere quel film vi emozionerete così come vi state emozionando guardando questa meravigliosa modella io vorrei avere la macchina del tempo guardate amici c'è la pulizia nelle mie parole non vorrei essere frainteso perché non mi piace essere frainteso c'è una figura femminile che avrei avuto l'onore di conoscere allora nel 910 vorrei avere la macchina del tempo l'attesa olio su cartone 30x56 di Cesare Ferro signore e signori 1700 euro di base d'asta incredibilmente basso scendiamo Maggi Cesare meraviglioso grande paesaggista di Cesare Maggi abbiamo visto nelle altre puntate un paio di opere mozzafiato e qui siamo di nuovo di fronte a un'altra grande opera lui pittore di montagna abbiamo visto di Cesare Maggi le greggi abbiamo visto i ruscelli abbiamo visto degli scorci di montagna e di colline di pianura meravigliose ma soprattutto di montagna guardate qui guardate che bella quella casa al fondo di questa strada si intitola scorcio montano importante e favoloso scorcio montano 70 per 50 olio su tavola l'opera è firmata in bassa destra e qui stiamo parlando di nuovo e guardate come ha trattato gli alberi guardate come ha trattato queste conche queste rocce come ha trattato questa neve che si mescola con quasi questo momento di nebbia tormenta che c'è qui sull'alta quota sinistra del quadro e poi questa piccola casa questo momento di presenza umana assolutamente non schiacciata ma anzi incastonata come un prezioso gioiello in un paesaggio fantastico cari amiche cari amici sapessero fare così certi architetti di oggi che la montagna la sfregiano vabbè non fatemi andare su alcune cose polemiche allora Cesare Maggi 20.000 26.000 euro di stima a fronte di una base d'asta di 13.000 euro questo artista un grande maestro un grande amante della montagna e soprattutto un pittore che ha saputo renderla al meglio qui da noi in casa d'asta di Sant'Agostino anche lui l'abbiamo avuto alcune volte abbiamo avuto altre sue opere sempre assolutamente hanno subito importanti ascensioni la base d'asta ha sempre avuto importante salite e quindi questa è la riprova migliore che anche Cesare Maggi come Deleani come Tavernier come Gheduzzi ma come Deleani ma come Lupo Alessandro ma come Angelo Garino sono ripeto sono non potrebbero essere sono nomi firme artisti sui quali potete investire assolutamente con tranquillità il vostro prezioso denaro perché queste opere sono preziose e perché queste opere prendono assolutamente valore nel tempo è il momento giusto per avvicinarsi a queste opere ultime due dell'ottocento Dal Bono Edoardo Dal Bono altro grande artista inquadra questa enorme bellissima scena allegorica di Marina perché qui c'è veramente tutta la grande come dire la napoletanità che viene fuori beh intanto lui si chiama Edoardo o Edoardo quindi già il nome è ovviamente contestualizzato a Napoli e poi però guardate i colori del napoletano guardate i blu intensi del mare guardate i cedi che stanno veramente cantando la gioia di essere cielo e guardate questo meraviglioso momento di festa guardate queste barche agghindate con edere con foglie di vite con le bandierine e questa gente che canta gioiosa e che sta guardando verso un certo punto verso l'orizzonte perché sta arrivando qualche altro amico qualche altra amica guardate però anche che belli questi piccoli tovaglioli questa tovaglia stesi qua sulla sabbia dove evidentemente poi si andrà a mangiare però soprattutto i contrasti vivacissimi i colori vivacissimi di questo grande artista esponente della cosiddetta scuola di Posillipo siamo onorati in mezzo a tanti pittori di avere anche questo esponente importante della scuola di Posillipo anche lui poi insegnante di pittura al reale istituto di belle arti di Napoli e poi anche lui dico anche una cosettina insomma così personale essendo amante anche io degli animali lui era un grande amante dei gatti tanto è vero che morì poi a Napoli a 73 anni in compagnia dei suoi tantissimi numerosi e amatissimi gatti però io mi concentrerei su questa grande festa sul mare con questi colori che stanno sicuramente cari amiche cari amici bucandovi lo schermo dal vostro palmare dal vostro iPad dal vostro computer dal vostro video di televisore stanno in mezzo con la gioia la festa nelle vostre case olio su tavola 34 per 45 stima attenzione stiamo parlando di un grande maestro di pittura anche lui come tutti gli altri 25-35 mila euro base d'asta 20 mila signore e signori scendiamo andiamo a chiudere in bellezza Arturo Faldi telecamera inquadralo perché Arturo Faldi è un altro dei miei preferiti Accademia Fiorentina poi esordisce con opere dedicate soprattutto alla pittura sacra eh quadri di soggetti egiziani o biblici e poi si orienta verso il realismo e riproduce luoghi e personaggi della campagna della pianura e della collina toscana e qui ne abbiamo un grandissimo esempio qui la pittura qui questa pittura intitolata L'attesa olio su tela grande importante 70 per 51 e 5 appartiene a un periodo importante in cui Faldi si dedicò appunto a questo paesaggio come vedete forte realismo grande capacità di scegliere il momento preciso in cui collocare la figura umana questa contadina con la grazia e nel contempo la forza guardate questo braccio che non è certo di fotomodella ma è di donna che lavora ma è pure quanta femminilità c'è e guardate come si protegge dal sole da questa luce abbagliante guardate questo mezzogiorno abbagliante difatti le ombre sono nette nitide subito a 90 gradi con la figura si protegge guardando chi il marito che arriva dalla campagna il marito che arriva dalla trebbiatura i figli che stanno ritornando dai giochi che stanno arrivando da scuola non lo sappiamo sappiamo solo che c'è tutta la poesia del momento dell'attesa in uno grande importante scorcio della campagna toscana allora opera firmata in basso a destra già bottega d'arte Livorno Montecatini Terme etichetta retro stima 35.000 50.000 base d'asta 25.000 signore e signori amiche amanti dell'arte abbiamo fatto una carrellata brevissima bisognava perderci mezz'ora per ogni quadro e non era persa era guadagnata perché ognuna di queste opere meriterebbe un momento critico importantissimo perché sono favolose sono eccezionali sono bellissime tutte abbiamo fatto una carrellata veloce io ripasso la parola a Patrick pochi minuti anche lui ci dirà ancora qualcosa su alcuni altri importanti orologi da polso o da tavolo o pendole e poi ritorniamo come abbiamo detto prima per una bella galloppata nel novecento che ci introdurrà alla prossima puntata di Oltre l'asta che sarà poi in onda lunedì prossimo vi ricordo 846 People TV su Sky 217 People TV sul digitale terrestre lunedì dalle 19 alle 21 però se voi andate sul nostro sito www.santagostinoaste.it potete andare a vedere anche tutti gli altri canali locali su cui siamo presenti guardate che sono tanti su tante province in diverse regioni qua del nord Italia Allora cari amiche cari amici vi do un arrivederci a tra pochi minuti e ripasso la parola al grande Patrick grazie Michele grazie eccoci qua allora come prima vi ho detto adesso ho anche una piccola presentazione da farvi degli orologi da polso perché Sant'Agostino Aste Asta 114 di martedì 14 giugno non è solamente orologi pendole e orologi da viaggio ma è anche e soprattutto orologi da polso infatti se potete notare ho preparato qui una piccola selezione di quelli che sono più di 180 lotti che andranno in asta appunto il martedì sia pomeriggio che sera una carrellata di marche le più importanti c'è Rolex c'è Vacheron Constantin c'è Patek Philippe c'è Odemar Piguet c'è IVC ci sono praticamente tutte le marche più importanti e più conosciute sul mercato adesso un'asta molto particolare perché presenta pezzi importanti e in ottime condizioni qui stasera ne ho per darvi un'indicazione di quelle che sono i top lot della serata una serie di Rolex un'importante collezione ce ne sono circa 10 io però vi faccio vedere stasera quattro pezzi particolari il primo dei quali è questo qua che è un Oyster Perpetual Day Date per referenza è la 1803 in oro giallo degli anni 70 come potete vedere un orologio in ottime condizioni con la sua confezione originale un orologio che ha la cassa in oro giallo in tre corpi con il fondello e la cassa vite la lunetta godronata e la finestrella del giorno a ore 12 era il modello President il modello top di casa Rolex il re degli orologi perché il modello che oltre ad avere il datario con la lente magnificatrice come potete vedere ha questo splendido quadrante argente la cassa in oro in ottime condizioni e il giorno della settimana a ore 12 questo orologio verrà appunto battuto esitato il martedì sera a partire dalle ore 21 quindi il martedì 14 e la base d'asta di questo orologio è di 3.800 euro che potete confermare immediatamente perché ve lo ricordo qua in casa d'aste Sant'Agostino è già di fatto iniziata la prenotazione dei lotti che andranno in asta il martedì 14 quindi l'esposizione ufficialmente comincia domenica 5 fino a domenica 12 però le prenotazioni e la visita qua in galleria è già possibile farla voi potete venire già da domani mattina alle 9.30 noi siamo qui in galleria che vi aspettiamo venite a visitare i lotti i quadri che ha presentato Primo Michele tutte le opere d'arte bellissime che sono state presentate in queste settimane gli orologi e anche i gioielli che aveva presentato Doriana la scorsa settimana quindi voi già da stasera potete telefonare o da domani presentarvi qua direttamente e noi possiamo già prendervi la base d'asta vi ricordo che per partecipare dovete essere registrati quindi dovete lasciarci il vostro documento l'identità il codice fiscale perché ogni vendita all'asta deve prevedere la registrazione di chi sia il fornitore e chi sia l'acquirente allora vi ho detto questo Oyster Perpetual Day Date la referenza è la 18.03 il prezzo la base d'asta è di 3.800 euro qui a fianco abbiamo invece uno sportivo andiamo verso l'estate quindi c'è voglia di acquistare un orologio che vada bene per il mare e quale orologio è meglio di un Seedweller Rolex Seedweller completamente in acciaio è un modello di recente manifattura perché è dell'anno 2005 è un orologio praticamente inusato lo vedete ancora corredato della sua scatola contro scatola ha tutta la garanzia originale e la garanzia di Astro perché è un orologio che proviene qua dal concessionario Rolex di Torino ed è veramente in ottime condizioni questo Oyster Perpetual Day Date perdon questo Seedweller appunto referenza 16600 ha la cassa in tre corpi con il fondello e la coronavit la lunetta unidirezionale con la scala sessantesimale e vedete ha la valvola ad elio come tutti i modelli Seedweller perché non è un classico submarino il modello Seedweller era quello che arrivava fino a 4000 metri un modello per le immersioni importanti questo modello viene presentato con la cassa con la scatola originale l'astuccio vi ripeto e la garanzia originale questo modello parte da una base d'asta di 4000 euro voi pensate che adesso gli ultimi modelli Rolex hanno avuto più di tre aumenti quest'anno a causa del franco svizzero che è salito e per necessità di casa Rolex di voler aumentare i prezzi dei loro modelli per cui si è sviluppato un grande mercato dell'usato un mercato dell'usato usato in queste condizioni logicamente perché stiamo parlando di orologi che sono pari al nuovo vengono presentati a prezzi molto interessanti perché sono più o meno il 50% del prezzo di listino dei modelli nuovi presentati in casa Rolex in questo momento quindi vi ripeto Seedweller abbiamo il modello sportivo e il modello elegante che è quello in oro poi farei vedere abbiamo qui davanti sempre corredato del suo astuccio e della sua garanzia originale un perpetual date il modello Explorer eccoci qua guardate anche questo orologio in ottime condizioni qui stiamo parlando di orologi che hanno fatto la storia di casa Rolex orologi che sono conosciuti dai più sono stati presentati in numerosi film la televisione li ha pubblicizzati moltissimo perché Rolex è una delle case svizzere che più ha sponsorizzato i propri modelli mettendoli al polso di attori famosi in film famosi da James Bond ci sono dei modelli di Rolex che prendono proprio il nome dell'attore il Polyhuman per ricordare il famoso Daytona e questo è l'Explorer 2 anche questo un orologio in ottime condizioni in acciaio l'anno è il 2005 il modello è in diametro 40 mm anche questo è la cassa in acciaio corredato di astuccio originale base d'asta molto molto interessante di 3000 euro quindi anche questo orologio potete chiamare immediatamente e confermarci la base d'asta altro modello molto molto interessante eccolo qua questo è un modello particolare poi chiudo ripasso la parola a Michele perché giustamente fa la carrellata finale dei quadri del 900 un Submariner in modello scritta rossa un modello degli anni 70 in ottime condizioni anche questo con scatola originale garanzia non è facile trovare questi modelli dopo 30 anni ancora con la loro confezione originale questo modello è dell'anno 77 denominato infatti scritta rossa perché vedete la scritta Submariner è scritta in rosso al di sopra del titolo della possibilità di portare l'orologio a grandi distanze e la base d'asta di questo orologio molto interessante per il corredo completo che ha tutto è di soli 9000 euro vi ripeto un Oyster Perpetual Date sarà il lotto 1047 Oyster Perpetual Date Submariner in referenza la 1680 del 77 dominato scritta rossa completo di astuccio certificato e corredo dell'epoca di Astrua Torino quindi vi ricordo anche per questo una base d'asta di 9000 euro allora direi che vi ho presentato una piccola parte degli orologi che sono disponibili qua vi ripeto da polso sono più di 170 pezzi che potete venire qua a visionare direttamente in casa d'asta di Sant'Agostino in corso tassone 56 potete venire da domani e potete venire qui mi dicono giustamente da Torino perché non per tutti è chiaro che noi siamo qua siamo conosciuti per la nostra serietà perché garantiamo sempre dei pezzi che sono garantiti da Casa d'Aste e Sant'Agostino io vi ringrazio per avermi seguito per gli orologi per quanto riguarda stasera e ripasso la parola a Michele che nel frattempo si è spostato perché le sale qua sono molte ed è andato nella sala del Novecento per cui Michele a te la parola e presentaci di nuovo dei bellissimi quadri perché ci affascini assolutamente con le tue descrizioni e con i prezzi che sono veramente molto bassi grazie va bene Patrick grazie allora siamo qui davanti a un'altra splendida gigantesca parete colma di opere meravigliose io allora vi dico subito che quando voi entrate qui a Torino in corso tassone 56 in casa d'Aste Sant'Agostino siete subito accolti da questa enorme meraviglia stiamo parlando di un 110 per 220 olio su tela e l'avrete già riconosciuto visto che prima ci siamo dedicati all'ottocento stiamo parlando ancora una volta di Gheduzzi e per la precisione del grande Giuseppe Gheduzzi però vorrei dirvi cari amiche cari amici che pensate che qui a Torino in corso tassone 56 vi aspettano 30 pareti siamo a una trentina di pareti alle quali sono appese tanti tante opere tanti capolavori una trentina di pareti da rimanere allibiti da guardare con gli occhi pieni di colori pieni di emozioni e come è tutta l'arte pieni di poesia perché veramente è un'arte qualificata quella che vi proponiamo è un'arte selezionata quella che portiamo alla vostra conoscenza e sono tutte opere autenticate quelle che state guardando attraverso i canali televisivi o attraverso internet in questo momento quindi l'invito è veniteci a trovare in corso tassone 56 tutti i giorni dalle 9.30 alle 12.30 poi dalle 15.30 alle 19.30 ma attenzione perché dal 5 domenica 5 giugno fino alla successiva domenica 12 giugno l'orario è continuato cioè dalle 10 alle 20 tutti i giorni e il sabato e la domenica dalle 10 alle 22 questo perché perché ovviamente dovete rendervi conto di persona per chi può per chi può muoversi per chi è comodo dovete rendervi conto di persona delle opere che andremo a battere nelle grandi cento e tredicesima asta del 13 giugno e cento e quattordicesima asta del giorno successivo 14 giugno anzi colgo ancora l'occasione per ricordarvi che nell'asta di lunedì 13 giugno alle ore 16 abbiamo i dipinti dell'ottocento e del novecento e alle ore 21 i dipinti del novecento e contemporanei poi a chiusura di trasmissione vi do anche tutte le indicazioni sull'asta di martedì 14 però adesso andiamo a vedere un attimo questo meraviglioso Giuseppe Gheduzzi casolari in alta Valturnance abbiamo visto prima quei sei Gheduzzi con quale capacità con quale raffinatezza e con quale calore umano sanno esaltare far risaltare ed esaltare la vita dei campi o la vita delle baite o la vita in montagna e qui ne abbiamo veramente una dimostrazione spettacolare allora l'opera è firmata in basso a destra come consuetudine di Giuseppe Gheduzzi c'è l'autentica anche qui dell'architetto Ugo Gheduzzi su fotografia un ulteriore ragguaglio importante che ci teniamo a sottolineare perché noi di Casa d'Asta e Sant'Agostino rispondiamo a tempo indeterminato dell'assoluta autenticità delle opere e questa è un'altra cosa che ci distingue dalle altre case d'Asta e poi abbiamo anche qui una stima che varia tra i 20 e i 28.000 e per questa gigantesca eccezionale incredibile opera in cui guardate se io mi mettessi davanti mi pare di essere su un'enorme finestrona aperta su un momento reale di vita nelle baite tra le baite questa figura che ci viene incontro questi fumi che escono dai comignoli questo sentierino che ci porta verso le baite e guardate questo momento in cui probabilmente qua c'è un sentiero appena accennato in mezzo all'erba calpestata da animali oppure magari un rigagnolo d'acqua che segna di scuro maggiore il verde dei prati che bellezza queste lose che sono qui appoggiate a prendere sole questa tenda dove noi possiamo immaginare che i contadini tengono come sapete tenevano il fuoco dove far scaldare il latte e quindi la tenda serviva perché il fuoco non si spegnesse spettacolare base d'asta 14.000 euro una base d'asta così bassa per un'opera così importante di Gesù Giuseppe Gheduzzi la potete trovare solo a casa d'asta di Sant'Agostino sopra iniziamo con 900 colombotto rosso un altro grande artista contemporaneo vivente l'abbiamo visto in un documentario che abbiamo anche proiettato noi di casa d'asta e Sant'Agostino grande personaggio anche questo anche le sue opere meriterebbero di soffermarsi a descriverle per decine di minuti l'una dobbiamo fare cari amiche cari amici una cavalcata e allora continuiamo io mi sposto di qua lascio il campo libero guardate che meraviglia Aligi Sassu campeggia al centro di questo trittico dove ci sono altri importanti artisti ma soffermiamoci su Aligi Sassu perché è un'opera veramente importante del maestro Sassu il suo caratteristico modo di dipingere le figure femminili o comunque le figure in genere con quindi nitidezza al primo piano sfocatura o minore risalto alle figure in secondo piano oppure alle figure di cui lui ci vuole far capire qualcosa di negativo e quindi queste due figure di donne un pochettino discinte un pochettino con questi sguardi da popolane popolane che però sono un po' trasandate che vengono tenute in un modo più meno delimitato meno delineato e poi invece la grande figura nobile di questa bella donna anche austera guardate che meraviglia queste fiamme questo colore caldo quasi come fiamme che le sorreggono il volto e che sono la centralità della sua figura con questa grande compostezza con questo abito dove l'unico momento chiassoso è questa grande forza vitale di aranci gialli rossi e però poi guardate che meraviglia sotto abbiamo il grande Francesco Tabusso abbiamo avuto delle opere importantissime sue e poi sopra difficilissimo penso da riprendere Monardi però che penso che Monardi sia un artista molto molto difficile da riprendere perché lui gioca guardate che intensità drammatica intanto questi visi pallidi di donne che escono dal lavoro o di donne che sono preoccupate per i mariti non sappiamo adesso in questa fase capirlo bene intuiamo questa grande città industriale del novecento fumosa tonicupi possiamo anche immaginare delle miniere possiamo immaginare queste donne che sono molto malinconiche o preoccupate o affrante a voi la interpretazione ciò non toglie che questa opera di Minardi è una grande opera stiamo parlando di un'opera del 1901 si intitola l'uscita dalla fabbrica ma possiamo dargli tanti altri significati perché talmente pregna di sofferenza di svuotamento di energie e di pallidi pallidi visi che stanno stiamo parlando delle fabbriche del 1900 quindi persone che uscivano dopo 12 ore di lavoro di certo senza più le energie avevano dato la loro vita possiamo intuire mamme nonne che quindi avevano ancora ulteriori lavori che le aspettavano a casa di questo meraviglioso trittico questo grande Francesco Tabusso questo grande Aligi Sassu questo grande Minardi io vi dico in rapida sequenza le basi d'asta Tabusso 9500 Sassu Aligi 20.000 Minardi 1000 signore e signori chiamateci chiamateci le misure come avete visto sono importanti aspettate a fronte di queste cifre vi voglio dare le misure partiamo dall'alto Minardi 90% 115 base d'asta 1000 euro Aligi Sassu 70% olio su cartone base d'asta 20.000 Francesco Tabusso 90% 20 olio su tela base d'asta 9.500 signore e signori cifre così basse per opere così importanti dove le trovate? Casa d'asta Sant'Agostino Torino Corso Tassoni 56 dove acquistare arte vuol dire investire in modo sicuro allora io non lo so c'è Xavier Bueno Tino Haime c'è Borra Pompeo Borra sono tutti degni c'è Onetti sono tutti degni di soffermarsi ma io a questo punto salto su un'altra delle nostre pareti perché abbiamo delle opere deliziose guardate amiche amici io vi faccio solo alcuni nomi Giorgio Morandi Marcia Gall Filippo De Pisis Antonio Ligabue e poi Felice Casolati Franco Gentilini Gigi Chessa Carlo Levi e Mario Sironi giusto per e Renato Paresce Renato Paresce che è anche uno dei miei preferiti tra le altre cose guardate li presenteremo mi metto davanti queste opere di cui adesso noi facciamo un piccolo scorcio perché oramai come avete visto da allora stiamo arrivando già oramai negli ultimo quarto della trasmissione mancano mi dicono dalla regia 12 minuti e siamo arrivati alla fine della diretta sono quasi le ore 21 queste opere che abbiamo visto sono un piccolo assaggino delle 600 opere dei 600 lotti di pittura che abbiamo qui in questo meraviglioso catalogo per la cento e tredicesima asta che si terrà il 13 marzo poi abbiamo il catalogo per la cento e quattordicesima asta del giorno successivo il 14 marzo dedicato agli arredi e agli oggetti di design dedicato ai gioielli dedicato agli orologi da polso da tavolo e da ovviamente pendola e le pendole però questo è un catalogo importante che voi potete ricevere senza impegno direttamente a casa vostra gratuitamente noi di casa d'astra Sant'Agostino non facciamo assolutamente nessun scherzo spiacevole ve lo mandiamo assolutamente senza impegno per tutti i nostri clienti nuovi o anche non clienti per tutti coloro che ci chiamano i numeri sovrimpressione o che ci contattano via internet e che danno ovviamente i loro dati e quindi vi inseriamo nella nostra ovviamente lista come si fa in tutte le case d'aste serie dovete darci mandarci via mail o via fax la fotocopia dei vostri documenti tutti i nuovi ricevono in omaggio a casa vostra direttamente il nostro catalogo tutti coloro che invece hanno la possibilità di venire qui in corso Tassoni 56 a Torino ricevono il nostro catalogo ugualmente glielo diamo il nostro catalogo che in copertina a rotella dietro a sul retro quarta di copertina a Adami e dentro cari amici cari amici giusto per darvi l'idea Calzolari Chia Chagall Ruggeri ma chi più ne ha più ne metta Adami Schifano ma parliamo Gheduzzi parliamo insomma cioè ne abbiamo centinaia 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 per voi allora proseguiamo questa visita partiamo da qui Giorgio Morandi guardate che questa è importante questa acquaforte su zinco è importante Giorgio Morandi ma è importante lei l'acquaforte su zinco di questo periodo natura morta con panneggio a sinistra 1927 24,9 per 35,8 opera firmata in basso centro alla lastra firmata e datata in basso a sinistra autentica del centro studi Giorgio Morandi signore e signori base d'asta 8.000 euro scendiamo con la telecamera Franco Gentilini bravissimo grande artista guardate queste pitture su sabbia di fiume che lui fa guardate che corposità guardate che forza e guardate anche quale come dire grinta c'è nelle sue opere questa figura femminile muscolosa queste due figure maschili inquietanti che stanno lì ai suoi lati la sconosciuta che entra e si fa notare subito con tutta la forza delle sue spalle larghe dei suoi polpacci segnati dei suoi fianchi molto marcati e dei suoi vestiti e del suo copricapo sfacciati guardate come colpisce l'elemento maschile i due elementi maschili che rimangono semplicemente basiti che forza gentilini anche lui uno dei miei preferiti ma io dovessi dire quali sono i miei preferiti vi direi cari amiche cari amici essendo un amante dell'arte vera direi quasi tutti perché ogni artista attraverso la sua storia attraverso le sue scelte le sue opere si fa amare si fa capire e si fa intuire allora 45 per 33 olio su tela sabbiata 30.000 40.000 la stima base d'asta 20.000 e poi spostiamoci Renato Paresce Porto Fluviale 1923 un gioiellino guardate che chicca telecamera guarda che chicca guarda che meraviglia questo piccolo questo piccolo olio su tela 22.5 per 27 ma quale importanza ha opera firmata datata in basso destra base d'asta 8.000 e poi scendi giù De Pisis Filippo Filippo De Pisis abbiamo avuto altre opere sue recentemente un altro artista che prende valore nelle arte nelle aste un altro artista che è sicuro investimento 13 per 22 olio su tavola base d'asta 7.000 e poi amici amici vogliamo ricordarlo il grande il grande Antonio Antonio Ligabue Zebrotto del 1929 1930 25 per 31 olio su tela olio su tavola di compensato base d'asta 25.000 scusatemi se queste cifre sono basse scusatemi se queste opere prenderanno tanto valore scusatemi se lo dico Sironi Mario Sironi figura anni 40 24 3 per 17 tempere matite su carta 2500 euro di base d'asta e poi ragazze ragazzi signori Chagall gli assiri invitati da Esther 1958 59 33.8 per 26 tecnica mista su carta giapponese onirico sognante onirico Marc Chagall base d'asta 62.000 euro e poi signore e signori attenzione arriviamo ai grandi di Torino felice Casorati con questa donna dormiente del 1960 l'abbiamo presentata qualche trasmissione fa meravigliosa tutta la poesia del Casorati di Casorati felice padre stima d'asta 15.000 base d'asta 15.000 grande 43 per 52 5 Casorati che è stato insegnante di tanti allievi del gruppo dei 6 e allora caro regista oggi abbiamo 4 artisti del gruppo dei 6 di Torino ci mancano solo Nicola Galante e la Jessie Baswell e gli altri li abbiamo tutti partiamo da Carlo Levi guarda qua Amanti 1948 38 per 45 olio su tela 3000 euro base d'asta e poi all'altro lato Gigi Chessa grande anche lui Gigi Chessa è Natura Morta Fruttiera 1928 44 per 34 olio su tela base d'asta 15.000 telecamera seguimi nell'altra parete perché andiamo a vedere in questi ultimi 5 minuti altre meraviglie il cuore mi si allarga la vista mi ondeggia veramente io sono qua che sto guardate cari amiche cari amici sono sono senza parole sono circondato da opere allora parlavamo dei 6 di Torino abbiamo visto Carlo Levi abbiamo visto l'altro grande rappresentante Gigi Chessa guarda qua abbiamo Francesco Menzio e poi guarda Francesco Menzio guarda non si può non riconoscere Francesco Menzio che ce l'abbiamo qui e Francesco Menzio che ce l'abbiamo qua con qui i ponti di Torino con il fiume Po degli anni 60 grande importante olio su tela 50 per 60 base d'asta soli 7000 gira la telecamera guarda qua ponte sul Po qui non siamo più a Torino il Po è già oltre Torino è molto più ampio è molto più largo grande 60 per cento olio su tela base d'asta 9000 e veramente sono pochi veramente sono pochi perché queste opere scusate io continuo a fermurarmi queste opere sono opere importanti eccezionali di grandi artisti e poi parlando dell'ultimo ma non l'ultimo di certo abbiamo visto Nicola Galanti e Jesse Buswell poi abbiamo visto che non ci sono abbiamo visto adesso Francesco Menzio Carlo Levi e poi guarda qua qui abbiamo un'intera personale di Enrico Paolucci guarda qui ci sono 3 6 9 12 Enrico Paolucci signore e signori guardate che anche qui tutti a prezzi di base d'asta assolutamente accessibili telecamera io ne leggo qualcuno 2.500 per spiaggia del 71 6.500 per la casa di Ezra Pound a Zoagli e infine 2.200 per Barche in Porto ma ancora di Paolucci telecamera vieni qua vieni qua vieni qua guarda qui mancano pochi minuti paesaggio Ligure grande 45 per 58 guazzo su carta a ridicoli soli 3.500 euro e poi mentre ci siamo per concludere in bellezza Felice Carena attribuito modella imposa base d'asta 1.000 euro e poi Arturo Tosi guarda che bello presentimento di primavera guardate amici ci sta già facendo rivivere la primavera che ritorna è appena finita ma questo quadro ce la sta facendo rivivere ce la sta riportando in mente presentimento di primavera in controluce del 1944 50 per 60 olio su tela 12.000 base d'asta Alberto Salietti un altro grande paesaggio dell'entroterra Ligure anni 40 50 per 60 olio su tavola a 5.000 euro e poi andiamo a un altro dei grandi Pietro Morando guarda che bello scorcio di paese 50 per 70 importante anche questo olio su tela base d'asta 3.000 euro allora io cari amici e cari amici inviterei qui con me Patrick perché stiamo in conclusione ci stiamo rosicchiando gli ultimi 120 secondi intanto poi mi spengo dico solo più questo a tutti coloro che ci hanno seguito a tutti coloro che sono stati e sono clienti di Casa d'Aste Sant'Agostino vi ringrazio perché la direzione di Casa d'Aste Sant'Agostino mi ricorda sempre di ringraziarvi e lo faccio con cuore perché il filo che abbiamo creato attraverso i nuovi mezzi che stiamo usando da 17 puntate sta diventando cari amiche e cari amici sempre più forte sempre più interessante io vi saluto e vi ringrazio lascio la parola per quest'ultimo minuto grazie Michele grazie davvero da parte di tutti lo staff perché come potete immaginare tutta la galleria quando ci sono queste riprese è dietro e ci supporta supporta Michele che è quello che vedete più spesso supporta me per le mie piccole apparizioni per gli orologi Doriana Doriana per quanto riguarda i gioielli e quello che vogliamo dirvi che oltre a seguirci da casa vi vogliamo vedere anche qua già da domani e con tutta l'esposizione che vi ricordo parte da domenica 5 ma già da domani è già tutto pronto Michele è una meraviglia venite a trovarci chi dice di averci visto in televisione avrà in omaggio il catalogo venite qua in Corso Tassoni 56 a Torino per vedere dal vivo quello che vi abbiamo presentato in televisione via Etere vi salutiamo con il solito nostro motto oramai eh cari amiche cari amici da noi di Casa D'Arte Sant'Agostino buona arte a tutti grazie grazie a tutti Grazie a tutti.